signori e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel solito usuale disordine della mia libreria allora cari signori questa sera torniamo diciamo così giusto oggi un signore un personaggio che come dire non ha di meglio da fare che non rompere le scatole col suo fanatismo mi accusa di essere un millantatore un mistificatore un fazioso eccetera eccetera perché ho definito la repubblica sociale italiana come stato fantoccio come entità di breve durata come entità nata morta e ha detto che era uno stato che batteva moneta contrariamente al regno del sud in cui esistevano le amlire batteva moneta io ho risposto semplicemente che se c'era qualcosa che la repubblica sociale italiana batteva quello era il marciapiede perché era uno stato puttana che vi devo dire forse perché il signore si dimentica che lo stato del sud il regno del sud non poteva più battere moneta per conto proprio perché i tedeschi si erano intascati le riserve auree della banca d'italia questo però il signore se ne dimentica ma lasciamo stare dicevo una cosa perché lo stato della repubblica sociale italiana fu uno stato fantoccio o come ho detto io uno stato puttana ce ne parlano nuovamente luigi salvatorelli e giovanni mira in questo fondamentale libro del 1969 ripeto ripeto un libro può essere per certi versi datato ma i documenti parlano chiaro perché i documenti sono sempre quelli allora sentite un po che cosa ci dicono salvatorelli e mira sulla sulla repubblica sociale sul sulla repubblica di salò allora la sede del governo fascista repubblicano fu stabilita nell'italia settentrionale a salò sulla riva bresciana del garda dove mussolini risiedete in una villa a parte in altra località a garniano e i singoli di castelli furono dislocati in varie località del nord non senza disordine e difficoltà dovute allo stato di guerra alla penuria di edifici ai guasti delle comunicazioni eccetera l'abbandono di roma privò il governo fascista di buona parte del suo prestigio e accentuò l'impressione della sua precarietà e la resistenza passiva e l'ostruzionismo di gran parte della burocrazia seppero in molti casi ritardare o addirittura evitare il trasferimento degli uffici poiché il problema principale era quello di continuare la guerra con forze proprie si decretò che le forze armate repubblicane come organismo erano un organismo del tutto nuovo gli ufficiali passati ai quadri erano considerati volontari e parificati nel trattamento a quelli dell'esercito tedesco ma la costituzione effettiva delle unità alle dipendenze del nuovo governo procedette con grande stento tra continui contrasti e magri risultati il 23 settembre il maresciallo rodolfo graziani 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 vabbè invitato e premuto dalle autorità tedesche aveva accettato di prendere il comando delle forze armate egli si recò in aereo al quartier generale del fuhrer per prendere accordi circa la riorganizzazione dell'esercito italiano accordi che furono concretati in un protocollo del 16 ottobre 43 il comando germanico dette assicurazioni circa la fornitura di armi istruttori e materie primi oltre gli ufficiali e le truppe che si sarebbero dovuti raccogliere in italia altri reparti si sarebbero dovuti mettere insieme tra le truppe italiane che erano state internate in germania i tedeschi chiedevano poi arruolamenti di truppe fresche non avendo fiducia nei soldati già moralmente logorati nei soldati di badoglio e chiedevano che l'addestramento delle truppe fosse fatto in germania a ciò erano contrari generali fascisti i quali non ignoravano i sentimenti ostili della massa italiana verso i tedeschi e inoltre desideravano che il nuovo esercito italiano servisse in patria fu concluso l'accordo per l'armamento e l'addestramento in germania di quattro divisioni composte per metà di reclute fresche per metà di volontari raccolti nei campi di internamento tedeschi ma in realtà i tedeschi non volevano non volevano la costituzione di un esercito autonomo del governo fascista repubblicano perché diffidavano profondamente degli italiani in generale va bene graziani 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 sempre lui in persone il primo ottobre aveva convocato tutti gli ufficiali presenti a roma al teatro di reano e li aveva esortati a riprendere servizio al fianco degli antichi alleati e agli ordini suoi successivamente furono date le disposizioni perché tutti si presentassero a determinati centri ma molti non risposero alla chiamata o poterono sottrarsi o con pretesti o nascondendosi spesso con la complicità di colleghi superiori per non essere obbligati a giurare fedeltà alla repubblica fascista questa è una cosa su cui tanti nostalgici passano in sottordine chissà come mai alla chiamata delle reclute diciottenni della classe 1925 molti giovani risposero sebbene non sia attendibile la percentuale data dall'autorità fascista dell'82 per cento in realtà probabilmente si trattava di circa un 60 65 per cento non di più ma poi cominciarono a disertare perché in pratica mancavano le caserme le armi i generi di casermaggio essendo tutto requisito dai tedeschi per uso proprio così che molti poterono tornare alle loro case e non ebbero molestie c'è praticamente altro che stato autonomo altro che stato che batteva moneta propria vabbè ai tedeschi importava soprattutto raccogliere reparti di lavoratori per la manutenzione e per le riparazioni delle loro retrovie al che provvedevano anche per iniziativa dei loro comandi locali con rastrellamenti di uomini validi ogni volta che se ne presentava la necessità tra costoro ci fu anche il mio bisnonno materno gustavo damiani che rischiò di finire deportato in germania per portare via le vacche rubate dai tedeschi ma vabbè lasciamo stare oltre ai lavoratori di retrovia ai tedeschi premevano i lavoratori per le industrie del loro paese che sopperissero l'ingente produzione continuamente divorata dalla guerra premevano infine anche i lavoratori delle industrie italiane che dovevano mantenersi in piena efficienza per la stessa ragione come operaio l'italiano valeva ai loro occhi e sei più che come soldato anche questo fece sì che i tedeschi non insistettero con l'energia che mettevano in altre cose per l'apprestamento dell'esercito fascista l'autonomia della repubblica sociale italiana oibò batteva maneta moneta propria oibò vabbè da tutto ciò provenne che un vero e proprio esercito fascista con unità di struttura e di comando non riuscì a formarsi vi furono bensì varie formazioni autonome sorta per iniziativa di singoli comandanti caratterizzate dalla indisciplina e dalla prepotenza verso la popolazione civile e che talvolta facevano ricordare le compagnie di ventura da altri tempi oltre ai reparti dell'esercito della marina e dell'aeronautica che obbedivano al ministro della difesa maresciallo graziani verano altri reparti che dipendevano dal ministro segretario del partito cioè pavolini con nomi di brigate nere di volontari della morte e simili dal comandante della milizia ovvero sia ricci dipendeva la guardia nazionale repubblicana costituita soprattutto da reparti antiaerei verano poi minori formazioni autonome la decima mass i paracadutisti il battaglione mussolini ed altre e poi formazioni poliziesche ma organizzate militarmente dipendenti almeno formalmente dal ministro dell'interno buffarini guidi questa disordinata molteplicità dei derivava anche dalla disunione che travagliava tutto il fascismo gerarchi in lotta l'uno con l'altro e che cercavano di procurarsi ciascuno la sua difesa armata avventurieri politici alleati con veri e propri criminali che commettevano illegalità e nefandezze di ogni sorta speculatori che intascavano la paga e i viveri dei militi e li lasciavano vivere tranquilli al sicuro dai rastrellamenti che vi devo dire che vi devo dire rende abbastanza bene l'idea della confusione della repubblica sociale italiana questo breve passo di salvatorelli e mira ma continuiamo un attimo dominio tedesco e soggezione fascista in quel tempo i veri padroni d'italia dal garigliano in su erano i tedeschi la loro politica dal 25 luglio in poi fu sempre coerente tenere l'italia con la forza come posizione avanzata della loro strategia difensiva come uno dei molti paesi stranieri che si potevano esporre ai pericoli e ai rovini dell'offensiva nemica preservando intanto il suolo tedesco come riserva di di viveri di braccia di denaro di beni di ogni sorta utili a prolungare la resistenza dell'esercito e della nazione tedesca da un pezzo governo e comando supremo del reich sapevano di non poter contare su un concorso attivo e fidato del paese alleato meglio averlo soggetto e sfruttarlo fino all'estremo delle sue risorse le operazioni di guerra interessavano soltanto una limitata zona della penisola la linea dal garigliano al sangro dove gli anglo americani certamente si preparavano ad attaccare ma le posizioni di difesa erano salde e permettevano di resistere a meno che nuove mosse strategiche non facessero sorgere minacce da altre parti nel resto del paese si trattava di parare il meglio che si poteva i bombardamenti aerei e di guardarsi dai partigiani che oibò molestavano soprattutto le comunicazioni quello che doveva fare la guerriglia dare fastidio alla logistica e alle comunicazioni vabbè la gran maggioranza della popolazione non amava i tedeschi e aspettava in muta angoscia la fine della guerra ma obbediva e lavorava l'italia agricola produceva molti viveri che servivano al vettovagliamento delle truppe l'italia industriale molti manufatti sia per la guerra sia per gli usi civili a cui le fabbriche tedesche non potevano più bastare poiché i tedeschi occupavano oltre all'italia anche francia belgio olanda danimarca norvegia polonia e jugoslava si era creata a berlino una cassa di compensazione attraverso cui si regolavano i conti delle rispettive importazioni ed esportazioni la germania ne profittava anche per il finanziamento della sua guerra lasciando ingrossare i suoi debiti verso gli altri paesi già nel 1943 l'italia registrava un notevole credito nel conto di compensazione italo tedesco credito che dopo l'otto settembre salì di molto la politica tedesca in questo campo è rivelata tra l'altro dall'accordo italo tedesco del 30 gennaio 44 relativo alle rimesse dei lavoratori italiani in germania in virtù di questo accordo le somme che i lavoratori italiani inviavano alle loro famiglie erano trattenute a berlino in uno speciale conto immobilizzato e accreditato al governo italiano il quale doveva provvedere coi propri mezzi a corrispondere il valore delle rimesse ai destinatari se vi sembra una clamorosa inculata nei confronti dei nostri lavoratori in germania non siamo poi molto distanti dal vero vi erano poi una quantità di prelevamenti tedeschi in italia fatti all'infuori degli accordi ufficiali fra i due governi dalle esportazioni di contrabbando in svizzera per procurarsi valuta pregiata alle requisizioni di ogni genere e forma fatte direttamente dai comandi e reparti tedeschi in tutto il paese si andava dalle transazioni bonarie alle imposizioni forzose dagli acquisti pagati pagati alle esazioni gratuite e dalle spugliazioni violente a seconda degli umori e delle occasioni dove regna lo stato di guerra abusi e soperchierie accadono sempre qui sono aggravate in molti casi dalla brutalità tedesca dalla meticolosità tedesca dal disprezzo di molti tedeschi verso gli italiani considerati traditori meritevoli di punizione dalla debolezza delle autorità indigene prive di ogni valida difesa di fronte al padrone straniero ma la repubblica sociale italiana era uno stato che batteva moneta per chi chiediamocelo nei rapporti tra governo fascista e governo tedesco una cosa era l'apparenza un'altra la sostanza già il governo della repubblica fascista viveva per grazia del führer protetto delle armi tedesche e strettamente vigilato dai fiduciari di berlino lungo la riviera gardesana intorno a salò sede del governo italiano si erano piantati gli uffici e le rappresentanze dei tedeschi che avevano il compito di assisterlo o per meglio dire di guidarlo allora come ambasciatore del reich dopo la conferenza di tarvisio era stato sostituito al diplomatico von meckensen uno assai meno corretto ma più energico rudolf rahan degno dipendente del ministro degli esteri ribbentrop egli trasferì l'ambasciata da roma a fasano sul garda e vi rimase fino alla fine il comando supremo delle forze armate in italia rimase al maresciallo kessering che aveva il suo quartiere generale sul monte soratte un militare serio e severo che considerò sempre a far suo la condotta delle operazioni di guerra la qualcosa non lo poteva esimere dalla responsabilità dei crimini commessi in italia dal nazismo e dai suoi campioni fu lui che decise lo sgombero dei corpi e comandi combattenti da roma e in tal modo preservò roma come città aperta da ulteriori offese nemiche per contro il comandante militare di roma dell'otto dall'ottobre 43 il generale melzer era un violento e un gaudente corruttore e corrotto che nella città eterna non fece onore né alla sua uniforme né al suo paese come in germania l'uomo più potente dopo il führer era henry himmler capo del partito nazista e delle sue milizie così in italia ebbe una autorità non ben definita ma grande il fiduciario di himmler il famigerato herbert kappler che col grado di tenente colonnello tenne il comando della polizia tedesca in roma nella germania del regime nazista verano spesso interferenze e attriti tra le autorità ufficiali dello stato civile militari da una parte e i potenti del partito diventato regime dall'altra senza contare che in tempo di guerra non mancano mai frizioni tra comandi militari e uffici civili ogni conflitto di competenza era ad ogni modo superato dal potere dittatoriale e veramente assoluto del führer dal lato fascista non si poteva più parlare di poteri indipendenti mussolini viveva in una lussuosa villa resi requisita a garniano stretta tra il lago e le case del borgo egli non si risollevò dall'accasciamento in cui era caduto dal 25 luglio l'essere stato liberato dai tedeschi e il rimanere di fatto in loro balia era certo per lui una dolorosa mortificazione inoltre le fosche prospettive dell'avvenire mal dissimulate dalla retorica oltransista che parlava ancora di vittoria non lontana accentuavano in lui quel fatalismo passivo che si era notato nei giorni della caduta del resto lo stato delle cose indipendentemente dalla sua volontà gli precludeva qualsiasi ogni possibilità di iniziativa e azione cosa gravissima per un uomo che aveva sempre inteso e amato la vita come azione più che come ragione unico conforto nei lunghi mesi che passò sul lago di garda gli fu la vicinanza della petacci che da alcuni anni era divenuta per lui inveterato amatore di donne la compagna preferita e quasi esclusiva dei suoi ministri quelli che spiegavano maggiore autorità erano i due che avevano saputo conquistare simpatia ed appoggio dai padroni tedeschi e sottolineo padroni il ministro dell'interno buffalini guidi e il ministro segretario del partito pavolini il primo per la sua astuzia ed utilità il secondo per il suo furioso attivismo di capo delle bande nere insomma nel febbraio 1944 la guardia nazionale repubblicana del litorale venezia giulia e delle prealpi e delle prealpi della venezia tridentina e del cadore fu informata che ogni sovranità italiana nelle due regioni doveva considerarsi sospesa per accordi tra hitler e il duce altre ordinanze esonerarono i comandanti delle guardie nazionali repubblicane in quelle regioni e abolirono il giuramento dei dipendenti al governo italiano nella venezia giulia comparvero truppe collaborazioniste slovene e croate nell'alto adige tutto era già tedeschizzato zara fu annessa allo stato croato il 20 maggio 44 il monumento a nazario saura capodistria fu demolito dai tedeschi e il 14 agosto 44 fu distrutto con la dinamite il monumento ai caduti di gorizia mussolini smentì non solo che vi fossero stati accordi tra lui e il führer per il trasferimento di quelle terre sotto la sovranità tedesca ma anche che egli fosse stato preventivamente informato con che riconosceva di essere stato trattato peggio di un servo scrisse al führer ma non ne ebbe risposta non reagì come sempre incassò e tacque che si tentasse così di amputare l'italia delle regioni redente da vittorio veneto e perfino di quelle dal 1866 sotto il regime di colui che era stato il più vemente propugnatore della loro conquista e aveva poi giustificato la sua dittatura col motivo del nazionalismo imperialistico costituisce una ulteriore condanna storica di mussolini e del suo regime se ne parla molto spesso scusate mi ha dato un foglio dicevo ne ho parlato spesso in altre occasioni il fallimento totale assoluto indubitabile e clamoroso del fascismo come politica come regime come società il fallimento il disfacimento del fascismo vent'anni di potere totale assoluto malamente collassati senza che nessuno osasse emettere un singolo respiro in difesa del duce il 25 luglio 1943 i tedeschi ne approfittano i tedeschi mettono le mani sull'italia del nord fondano lo stato fantoccio e sottolineo fantoccio della repubblica sociale italiana e si appropriano del veneto del friuli venezia giulia della costa dalmata e lasciano mano libera e lasciano mano libera a sloveni e croati contro gli italiani che non chiedevano di meglio e l'amministrazione italiana di quei territori il cosiddetto alpenwurland e la cosiddetta adriatische kunsternland furono esclusiva dei tedeschi furono ceduti furono presi d'impeto presi di forza dai tedeschi senza che mussolini capo dello stato della repubblica sociale italiana stato autonomo che batteva moneta come dice qualcuno si ritrovò decurtato praticamente di un terzo del territorio a opera di chi a opera dei fedeli alleati a cui voleva essere tutti i costi voleva essere tutti i costi fedele a cui dovevano essere fedeli c'è questi si vogliono occupare il veneto il friuli la venezia giulia la dalmazia e tutte le terre ritenute italiane conquistate con la prima guerra mondiale e mussolini che fa sta zitto perché quello era giusto capace di fare perché non fu mai capace di dire niente all'alleato tedesco non fu mai capace di imporsi neanche nei momenti di massimo splendore mussolini fu in grado di interloquire in una qualche maniera con hitler senza fare la figura del peracottaro figurarsi adesso che hitler lo teneva per il naso come un cagnolino a guinzaglio tutto qua la repubblica sociale italiana non fu soltanto uno stato fascista uno stato uno stato fantoccio scusate ma fu la dimostrazione dell'asservimento totale mentale psicologico e fisico di mussolini ai suoi padroni il decadimento dell'uomo il mussolini crepuscolare depresso malato stanco un uomo che forse si era reso finalmente conto che per tutta la vita aveva recitato una parte che gli era malamente come dire crollata di dosso un uomo che sapeva di essere prossimo alla fine un uomo che sapeva di essere un servo un uomo che per tutta la vita non volle essere altro che servo dei tedeschi le parole di salvatorelli mi era sono estremamente chiare ripeto il libro pur se datato espone in maniera chiara e precisa e decisamente contestabile i meccanismi di come la repubblica sociale italiana non fu né più e né meno che un ectoplasma di stato una forma un'ombra i cui funzionari cui ministri il cui presidente del cui presidente capo erano poco più che ombre cinesi che si muovevano sul muro marionette burattini incapaci di fare alcunché che non fosse l'obbedire agli ordini agli ordini del loro padroni tedeschi salvatorella e mira salvatorelli e mira ce ne parlano tanto bene il libro è vecchio ripeto ma è un libro interessante che va letto che va conosciuto che va riletto che va valutato con molta attenzione perché pur con i limiti dell'età ci spiega chiaramente quale fu la politica tedesca in italia dopo il 25 luglio 43 dopo l'otto settembre 43 e per tutti i duri e terribili mesi di esistenza dello stato fantoccio della repubblica sociale italiana e mi sento qua fastidiosa nell'orecchietta una una voce che dice ma la repubblica sociale italiana batteva moneta la sola cosa che batteva la repubblica sociale italiana erano i marciapiedi nella sua funzione di puttana dei tedeschi rassegnatevi quello era la repubblica sociale italiana uno stato fantoccio uno stato senza autonomia uno stato che aveva consegnato ai tedeschi il veneto il trentino l'alto adige il friuli trieste l'istria la dalmazia le conquiste della prima guerra mondiale furono tutte riprese dai tedeschi alpen vorland adriatici e kunsternand basta un qualsiasi libro di storia basta un qualsiasi libro basta anche non so anche dare un'occhiata alla pagina wikipedia che tutto sommato è anche abbastanza affidabile per arrivare a queste storie ma niente la repubblica sociale italiana era autonoma era libera batteva moneta contenti voi che vi devo dire quindi cari signori io vi saluto con con un aforisma di mino maccari tratto da aforismi su sulla stupidità umana di marco taisa mino maccari disse semplicemente che quando trionfa l'imbecillità essere sconfitti è un onore e gli stupidi impressionano sempre non fosse altro che per il loro numero rispose riccardo bacchelli e oscio scrisse anche che lo sciocco può essere estremamente colto e di fatti lo è quasi sempre può essere un pundit un insignio professore che nasconde così la propria stupidità raccoglie sapere alla circonferenza e nasconde l'ignoranza che esiste al centro questa credo che sia la migliore risposta che io possa dare a certi detrattori quindi cari signori io vi ringrazio di tutto cuore per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video buonasera